Gentili telespettatori, dopo Emanuele Giordano come al solito arriva a Canali 2, c'è dopo il Tg. Eccoci qui anche oggi, sapete che la notizia proprio di oggi, che è venuta fuori ieri sera, in giornata, la notizia che riguarda la città di Altamura è che il commissario che era stato, commissario prefettizio, che era stato nominato per subentrare al sindaco di Altamura, per prendere i poteri del sindaco, torna a casa, tra virgolette, perché è stato vinto un ricorso, secondo il quale ora ritorna il vice sindaco ad amministrare la città di Altamura insieme agli assessori che erano stati destituiti proprio per l'arrivo del commissario. Questa è la notizia che tra l'altro abbiamo anche mandato, approfondito nel nostro Tg, ma non è di questo che parleremo, quest'oggi parleremo della nostra città, cioè di Altamura, parleremo del suo centro storico, ne parleremo con qualcuno che ha fatto delle considerazioni, che ringraziamo per essere qui con noi, Mimmo Tirelli, grazie per essere qui, come si trova? Ringrazio te e ringrazio gli ascoltatori che ci ascolteranno per questi minuti che ci rimangono. Bene, Mimmo tra l'altro è un appassionato di atletica, sport, sicuramente... La frequente, l'ho anche frequentata lì in Croazia, ho colto anche l'occasione di gareggiare un paio di volte in Croazia. Ecco, perché parleremo proprio della Croazia oggi, perché negli ultimi tempi ci sei stato per motivi di lavoro... Quindi, siccome sono un attento osservatore, diciamo più che curioso, mi piace per osservare... Amo la città di Altamura, l'amo la città di Altamura, è chiaro, se siamo qui... Proprio perché l'amo e l'amo tanto, mi è sembrato opportuno quantificare e considerare le varie differenze tra le due etnie evoli. Quindi tu sei qui oggi in veste di testimone, lo spieghiamo ai nostri telespettatori, così come facciamo spesso per parlare di problemi della nostra città, di possibili soluzioni, suggerimenti... Ecco, noi cerchiamo di dar soprattutto suggerimenti. Aiutare, aiutare, collaborare. Perché l'amore per la propria città, oltre che per la propria famiglia ovviamente, è indiscusso. Al di là di chi amministra, l'amore per la città non deve mai cambiare. Ecco, allora Mimmo, tu sei stato in Croazia. Sono stato in Croazia. Cosa hai potuto notare? Quindi non è la prima volta che ci sono stato, però l'ultima volta mi sono posto proprio questo obiettivo di portare delle testimonianze dalla Croazia, per quanto riguarda, diciamo, il centro storico, che diciamo in Altamura se ne sta parlando da tanto, probabilmente ci sono stati anche dei fondi, ci sono dei fondi che possano recuperare bene il nostro centro storico e possono dare tanto lavoro recuperandolo e in attività e in recupero dal centro storico. Quindi, diciamo, io ho fatto delle foto, che possiamo anche far vedere alla popolazione, della differenza di condizioni dei due centri storici, come è verso il nostro centro storico e come è verso... Il nostro centro storico che non si riesce a valorizzare da una vita, come è verso il nostro... Se ne parla, ma non riusciamo mai a... Ad arrivare a dunque, almeno fare un campione, una campione, cominciamo a fare un campione, una campionatura... Sì, noi ti ringraziamo perché hai portato proprio i potenti mezzi di Canale 2, guardate, questo è un esempio di come si possa far vedere delle foto ai nostri telespettatori. Questo è il cellulare proprio di Mimmo, sul quale sono state scattate delle foto. Ecco, vedete, questa è la pavimentazione di questo centro storico, strade, dobbiamo dire, pulite, le strade sono pulitissime, le pietre sono davvero intatte, impeccabili, sembrano lisce proprio, tenute a lucido. Questo è un claustro, una specie di claustro, credo, no? Quello che, diciamo, io ho ottenuto da queste foto, non volendo, è la lucentezza del pavimento, oltre ad essere integro, è la lucentezza, cioè la pulizia del pavimento, oltre poi che non esistono, diciamo, escrementi, rifiuti vari, per te non esistono. Questo per dimostrare che esistono, ma credo che ci siano esempi del genere anche in Italia, se vogliamo essere proprio più precisi, però esistono anche, guardate, anche attività commerciali, questa foto ne è la dimostrazione, qua c'è, credo, un'attività commerciale proprio sul corso, credo, di questo centro storico. Questa forse sarà la più antica, però tenuta in un modo esemplare, tenuta in un modo esemplare. Quindi l'impressione che si ha, questa proprio dice tutto, questa foto, l'impressione che si ha quando si cammina per queste strade del centro storico è che tutto sia ordinato, credo. Assolutamente sì, assolutamente sì, voglio dire, ma la gente, guardate questo. Come abbiamo visto, come stiamo, diciamo, analizzando queste foto, così è la gente, semplice, cordiale, disponibile e umile soprattutto. E io questo, questo voglio, voglio comparare, questo voglio comparare. È possibile che una piccola... C'è anche una leggenda lì, guardate in fondo, come le avevamo noi anche ad Altamura, però sono state tutte distrutte, praticamente. È possibile... Non so se in un ristorante o di cazzo, non so se... Sì, sono tutte attività commerciali, c'è praticamente il centro storico è vissuto, abita la gente, c'è, vedi, ci sono attività commerciali, c'è di tutto, c'è l'artigiano, c'è di tutto, praticamente. La pietra è stata anche valorizzata in maniera adeguata, sembra, tutte strutture in pietra, belle. Belle, belle, è tutto lì così com'è, voglio dire, ecco, così com'era, così è stato tenuto, sicuramente è stato manutentato, insomma, certamente. Però questo è il loro primo lavoro, il turismo. Loro, i croati, vivono... Guardate quanto è bella, sembra un quadro, non sembra una foto. Vivono da questo, i croati. Come è possibile, caro Arturo, una nazione di 4 milioni circa di abitanti, così piccolina, reduce da una guerra negli anni 90, reduce da una guerra, essersi sviluppata in questo modo, senza avere del sottosuolo, un ricco sottosuolo. Loro hanno solo un mare, il mare, che loro sfruttano, e il centro storico. Ecco, guardate quest'altro, questa è praticamente di Halloween, quindi qualche giorno fa, recentissima. Sì, questa è 4-5 giorni fa, sono rientrato 4-5 giorni fa, recentissima, e quindi, diciamo, ho chiesto... Qua ce ne sono delle altre, e quindi ho chiesto... Ecco, guardate questa quanto è bella. Queste sono vetrine. Vetrine antiche, che non sono state, diciamo, appositamente... No, appositamente non sono ristrutturate. È una cartoleria che, diciamo, da sé parla da sola, è già turismo quello. Quello è già turismo, antichità, conservata. Queste sono altre vetrine. E il centro storico che tu hai visitato è grande, quanto è grande, come il nostro... Non è grande come il nostro, il nostro è superlativo come grandezza rispetto a loro. Sì. Diciamo, è abbastanza grande, non è... Questa è un'antica barberia, che è stata rimasta così. Lui forse... Io ho parlato anche con questo signore qui, che spizzicava bene, diciamo, più o meno bene dell'italiano, e che mi ha dato delle notizie. Lui, anche lui ha attraversato la guerra, quanto è, ha rilasciato questo locale così com'è, senza fargli niente. È tutto così com'è originale, voglio dire. Bellissimo. Quindi c'è turismo, c'è lavoro in questo centro storico, c'è movimento. Ecco, guardate. Guardate, guardate. Questo è un campo largo che ci fa capire. Io dico una cosa. Bisogna avere, prima, l'amministratore deve essere anche umile. accettare i consigli. Possiamo farci... Non è che voglio accompagnarli, ma se si può fare un viaggio. Copiare, devono solo copiare come sono organizzati e come potremmo organizzarci noi e creare lavoro. Perché noi adesso, negli ultimi tempi, caro Arturo, stiamo sempre sponsorizzando la città di Matera per il 2019, come è capitata la cultura, e noi dobbiamo essere solamente degli spettatori. quando noi abbiamo del materiale da poter offrire al turismo, oltre, diciamo, all'uomo di Altamura o gli ormi dinosauri che non arriveranno mai, non arrivano, non riescono a realizzarle. È un'utopia, insomma. È un'utopia. Non riesciamo a realizzarle. Noi abbiamo il centro storico, che probabilmente in Puglio non esiste, è un centro storico del genere. Io, questa è una zona più moderna. Questo è il frontemare. Sì, un lungomare. E anziché mettere delle piastre, dei pavimenti comuni, hanno messo dei lastroni per terra, che sono meravigliosi vederle. Meravigliosi vederle. Quindi anche nella scelta dei materiali c'è giurizio. C'è un'attenzione, c'è un'attenzione. Ma, diciamo, tutto questo lo ricavano solo perché i cittadini hanno una cultura diversa di educazione. Un giorno, mi è capitato, le prime volte che sono andato, se non la prima volta in assoluto, quando sono giunto io in questo paesino, praticamente, io, insomma, parlare di croato non è molto facile, voglio dire, quindi soprattutto se non lo conosce, ed è molto, abbastanza difficile. Mi sono avvicinato a un collaboratore ecologico, se ne sono pochi, se ne è uno per quartiere, saranno quattro o cinque di tutti, perché non sporca nessuno, e ho chiesto un'informazione. Il collaboratore ecologico mi ha risposto in questo senso, ma lei parla inglese? Do you speak English? E io sono rimasto sprovvisto a questa domanda. Come loro, cioè non c'è differenza di categorie o di ceti sociali, tutti assolutamente parlano inglese lì. Come mai noi, diciamo, in Italia, non ci fermiamo a... Come mai in Italia e ad Altamura, dalle scuole materne, non incominciamo ad insegnare i bimbi come si parla, perché non si parla inglese? Questo è tutto. Si chiude, si entra in aula, si chiude, butta la chiave, si parla solamente inglese. Vabbè, le cose, per fortuna, gli ultimi anni sono un po' migliorate rispetto al passato, però è ancora poco, è ancora poco. Anche perché bisogna insegnare bene l'italiano, innanzitutto. Certo, purtroppo abbiamo esempi di laureati che non sanno nemmeno parlare in italiano. Loro parlano in italiano, questo è tutto. Loro parlano in italiano. Dico, come mai siamo così fermi noi? Eravamo la settima potenza mondiale, siamo così fermi, ci stiamo vendendo le aziende, i maggiori brand li stiamo dando agli altri. Cioè, perché siamo fermi? Perché gli amministratori non vedono in prospettiva come creare opportunità di lavoro? Quindi il messaggio che tu vuoi lanciare oggi è, gli altri stanno crescendo, noi rimaniamo sempre allo stesso punto. Quindi praticamente siamo rimanendo indietro. Se noi non cresciamo, se siamo fermi, vuol dire che andiamo indietro. Certo, rispetto agli altri. Siamo avanti in qualche settore, probabilmente, nella delinquenza, caro Arturo, che cresce giorno per giorno. Nello spaccio, di sostanze stupevose. Ma al di là, al 360 gradi, voglio dire, questo è quello che possiamo offrire dal tavolo. E' una riflessione che dobbiamo lanciare oggi a chi ci sta guardando, anche perché oggi capita bene questa trasmissione, perché sarà ritornato anche in carica l'assessore al centro storico, suppongo. Non so chi fosse, non so se era il vice sindaco. Io non seguo un po' la politica, perché ho fatto parte, ho dato il mio contributo. Ma adesso non so come sarà. Sì, no, ma il tema è ampio. Non dobbiamo scendere nel dettaglio. Io mi rivolgo verso la figura, verso l'amministratore in genere. Sì, certo. Perché noi abbiamo... Non alle persone, ma dobbiamo parlare in generale. Io mi rivolgo agli amministratori. Ma perché l'amministrazione altamurana, e parlo in genere io, da che esiste, nessuna amministrazione si è rivolta mai, con serietà, a raggiungere questo obiettivo per la rivalutazione del nostro centro storico. Ma perché? Ma perché, dico io, andiamo, vado io, Martino, tu sai che mi diverto anche a fare un po' di atletica leggera, voglio dire. E questa atletica leggera mi dà l'opportunità anche di girare in Puglia. Io ho visto anche gli centri storici della zona di Martiglia, di Putignano, di Moro Corotone. Alberobello, voglio dire. Noci e voglio. Perché noi dobbiamo essere così fermi? Qual è questa volontà? Qual è questa palla al piede che ci trattiene da volerlo fare? Questo non capisco. Se non attuiamo politiche intelligenti, poi il centro storico continuerà a svuotarsi, continuerà a riempirsi solo di delinquenza, di spaccio. Non c'è più sicurezza. Se svuotate non c'è più sicurezza. Perché chi ha delle cattive idee, voglio dire, trova il centro storico spoglio, pulito, quindi terra di lavoro per loro. Questo è tutto. Invece noi dobbiamo riempire il centro storico, lo dobbiamo rivalutare, dobbiamo creare opportunità di lavoro. Lavoreranno anche perché, rivalutando il centro storico, per rivalutarlo abbiamo bisogno di tante maestranze, di artigiani che lavoreranno per 50 anni. Incominciamo a fare una campionata, cominciamo da un angolo, a ristrutturarlo. Coinvolgiamo l'idea e il progetto dei giovani professionisti. Anche perché le intelligenze e le professionalità ce le abbiamo. Non è che dobbiamo andare a chiedere a qualcun altro. Poi abbiamo delle figure capaci, sicuramente ci sono, e abbiamo anche dei posti da cui attingere le idee, voglio dire. Non bisogna inventarsi nulla, basta guardare. Io sono lì, qui, praticamente, accessibile per tutti. Manca e ci deve essere la volontà. Non ci deve essere, diciamo, l'arroganza di essere eletti per andare in consiglio comunale. E non ascoltare. E non ascoltare. Sì, io auguro che, diciamo, apprezzo chi magari nella campagna elettorale si dà da fare per essere eletti. Ma deve essere un fatto, diciamo, culturale più che altro, ma non, diciamo, personale. Ecco l'amore verso la città. Questo è tutto. Bisogna pensare al bene di tutto, dell'intera città. Senza invidie, senza rancori, senza odio. E va bene, è utopia. Va bene, allora, penso che abbiamo detto tutto, Mimmo. Io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Ogni contributo dei cittadini di questa città, ma non solo, anche delle città di Mitrofe. Noi lo accettiamo, lo invitiamo chiunque a venire qui a parlare con noi. È un modo per raggiungere la città e quante più persone possibile. Perché, tra l'altro, da uno studio, lo dico proprio in chiusura, da uno studio dell'Agecom, è emerso che la televisione è il primo mezzo, la televisione locale, attenzione, questo è il dato, non la televisione, la televisione locale, è il primo mezzo di informazione in alcune regioni italiane, tra cui la Puglia, la Basilicata, la Lombardia e, credo, un altro paio di regioni. Quindi questo significa che in Puglia la gente ama la propria emittente locale, ci guarda ed è la prima fonte di informazione. Bene, allora, grazie a Mimmo Tirelli per essere stato qui con noi, avremo modo di riparlare di questo e di altri temi. Grazie a tutti per averci seguito. Vi ricordo che domani c'è un importante impegno di Canale 2, c'è una diretta televisiva importantissima che sarà sicuramente molto seguita a partire dalle ore 9 di domattina in diretta dall'Hotel San Nicola per un convegno organizzato dal Club Federiciano di Altamura. Grazie a tutti, noi saremo in diretta, quindi potrete seguirci. Grazie a tutti, a domani da Arturo Castoro. Buona giornata a tutti voi. Grazie a tutti.